Cari fringuelli, in questa torrida giornata di metà luglio ho deciso di lavare la mia bicicletta spero di non perdirmene perché le temperature outside sono veramente alte si parla addirittura di 38 gradi centigradi però spero di fare un ottimo lavoro utilizzerò alcuni componenti di cui tra poco vi parlerò approfonditamente vi farò vedere anche la mia tecnica prima però di presentarvi gli strumenti del mestiere vi voglio parlare della mia tecnica è una tecnica particolare si chiama tecnica dei 5 litri sembra una strana pratica di arti marziali ma non vi preoccupate, non è niente di eccezionale però vi permette di lavare la vostra bicicletta con soli 5 litri questo vi permette da un lato di non sprecare acqua soprattutto nelle giornate molto calde dove ci sono magari anche controlli delle forze dell'ordine perché non si sprechi troppa acqua e dall'altro di evitare di sparpagliare acqua magari sui muri, per terra con la tecnica dei 5 litri che tra poco vi insegnerò e con gli strumenti adatti ovviamente farete un ottimo lavoro allora parliamo degli strumenti del mestiere questo è il mio banco di lavoro e come vedete trovate il bundle delle spazzole comprensivo di spugna, spazzola per la meccanica ma anche per gli anfratti più nascosti del nostro telaio può essere utilizzata anche esclusivamente per le borracce questo sta a voi decidere come utilizzarla io penso di utilizzarla anche per le ruote magari per la borraccia no il pennellino questo pennellino è specifico è un pennellino molto tenace è un pennellino specifico per la trasmissione per la meccanica della vostra bicicletta dopo vi faccio vedere anche lo sgrassatore da utilizzare infine abbiamo una spazzola morbidissima talmente morbida che è un piacere farsi accarezzare da questa per il telaio e poi abbiamo la classica spugna quindi ricapitolando spazzola per borraccia ma che io utilizzerò per le ruote pennellino per la meccanica spazzola per il telaio e classica spugna andiamo da quest'altra parte piccola nota questo bundle viene venduto nel kit completo lo potete trovare sullo shop di Syncros shop online o in molti altri negozi altro bundle eccolo qua è il bundle del detergente sgrassatore lubrificante che potete trovare sullo shop online di Syncros o in molti altri negozi allora partiamo dal detergente il detergente che si chiama Eco Bike Cleaner ve lo dico subito è Eco Friendly perché altrimenti non l'avevi comprato e sono molto attento al rispetto dell'ambiente e quindi ho una sensibilità particolare quando vado a comprare determinati prodotti viene venduto nella confezione da un litro non viene venduto direttamente con lo spruzzino ma viene venduto in questo formato con il tappo consiglio ai naviganti se andate a fare una gara o un viaggio in bicicletta e volete portare con voi questi prodotti tutti e due per tenere le vostre biciclette sempre pulite togliete lo spruzzino e mettete il tappo perché non si sa mai magari in viaggio da questo ugello si potrebbero avere delle micro perdite che potrebbero andare a inondare la vostra valigia il vostro kit degli attrezzi ci rimettete il tappo portate con voi lo spruzzino all'occorrenza sfilate il tappo mettete lo spruzzino e il gioco è fatto parliamo adesso di questo eccolo qua questo è lo sgrassatore specifico per ovviamente le parti meccaniche quindi deragliatori catene pacco pignoni guarnitura pedivelle ok viene venduto nella confezione da mezzo litro anche in questo caso sfilate il tappino e inserite lo spruzzino l'ho fatta anche la rima infine abbiamo lui il piccoletto viene venduto nella confezione da 125 ml è un lubrificante secco con nanoparticelle di ceramica ok fringuelli questo è tutto quello che mi serve per andare a pulire lavare sgrassare e lubrificare tutti i componenti della mia bicicletta ora andiamo ovvia fringuelli siamo arrivati al momento tanto atteso di lavare questa bicicletta che come vedete è una canyon grail cfsl una bicicletta gravel in sintesi una delle più vendute probabilmente per il suo rapporto tra qualità e prezzo allora che cosa andiamo a fare andiamo a lavare questa bicicletta che come vedete è appena tornata da delle strade bianche quindi non è molto sporca perché non c'era fango non c'era umidità quindi è uno sporco superficiale potrei definirlo uno sporco secco non so se è il termine corretto allora parliamo anche della mia tecnica del lavaggio dei 5 litri come vedete non uso un getto ad alta pressione non uso un'idropolitrice non uso una cannella dell'acqua direttamente collegata a una fonte uso un piccolo irroratore che ha una capacità massima in volume di 5 litri quindi al massimo se utilizzerete anche voi questa tecnica consumerete al massimo 5 litri di acqua per lavare la vostra bicicletta che di questi tempi aiuta tantissimo a salvaguardare l'ambiente quindi che cosa si fa si va a lavare la bicicletta con questo getto di acqua a bassissima pressione nebulizzato poi è la volta dello sgrassatore prodotto Syncros che come vi ho detto è Eco Free Handly altrimenti non lo viene nemmeno comprato e si dà una passata di sgrassatore su tutta la parte meccanica sia al posteriore quindi pacco pignoni deragliatore che all'anteriore sulla corona o meglio sulle moltipliche sul deragliatore e si dà con una spruzzatina ai pedali a sgancio rapido poi prendiamo il pennello pennello molto duro sempre di Syncros che ci aiuterà con questi passaggi multipli a togliere tutto lo sporco tutto il grasso che insieme alla polvere è andata a creare quella che qui in Toscana si chiama la morca che è quella pasta nera appiccicosa che diciamo non aiuta la meccanica della nostra bicicletta si fanno due o tre passaggi su tutta la meccanica e il lavoro è un lavoro ottimo ci vuole un po' di pazienza ma poi alla fine ci siamo poi che cosa si fa sempre con lo stesso aeroratore andiamo con un po' più di pressione quindi si dà qualche pompata si bagna ulteriormente la meccanica per portare via lo sporco che è stato rimosso o smosso dal pennello a questo punto prendiamo il cleaner il prodotto detergente sempre di Syncros e soprattutto Eco Free Handly e andiamo a spruzzarlo ovunque tranne che sulla meccanica perché quella tecnicamente è già stata pulita e non ha bisogno di altro telaio ruote manubrio forcella parte superiore soprattutto la parte inferiore del tubo oblico quella che raccoglie tutto lo sporco deve essere attenzionata e quindi ci vuole un pochino più di attenzione là sotto anche quando andiamo a togliere lo sporco bisogna fare attenzione perché lì sotto potrebbero esserci dei micro sassolini incrostati con lo sporco che potrebbero andare a graffiare il telaio poi si prende la spazzola di Syncros quella morbidissima e si incomincia praticamente a spazzolare tutta la bicicletta come se fosse un animale domestico la si spazzola tutta questa azione meccanica unita all'azione chimica del detergente aumenta la pulizia della vostra bicicletta a questo punto passiamo alle ruote con quella spazzola che ha la forma diciamo così di un cono andiamo a pulire cerchi raggi e mozzi della ruota posteriore e di quella anteriore prima da un lato e poi facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato anche qui ci vuole un pochino di pazienza però insomma non è niente di trascendentale dopodiché si dà una bella spruzzata generale per essere sicuri di aver portato via tutto tutto lo sporco dalla bicicletta con queste temperature non c'è nemmeno bisogno di asciugare la bicicletta perché si asciuga letteralmente da sola però ecco l'ultimo passaggio è questo cioè un ultimo risciacquo per portare via tutto poi se siete proprio fissati possiamo andare a togliere un po' di umido dalla meccanica quindi dal pacco pignoni e con un ottimo lubrificatore che in questo caso è di synchros ricordo con nanoparticelle di ceramica e un lubrificante secco andiamo a lubrificare la catena e il gioco ragazzi è fatto ok fatemi sapere come voi lavate le vostre biciclette noi come sempre ci vediamo al prossimo video buona allenamento alla prossima ciao 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 Grazie.